polpettone con crema di friarielli avvolto del bacon abbondante olio in padella, aglio, dorato l'aglio metto il peperoncino, i friarielli, regolo di sale, tolgo gli spicchietti d'aglio e senza coprire faccio cuocere a fiamma alta per 5-6 minuti nel frattempo in un contenitore capiente spezzetto il pane bagnato e strizzato aggiungo il macinato di maiale, il macinato di vitello, l'uovo, il parmigiano, un po' di sale, il pepe e mescolo tutto poi metto i friarielli nel bicchiere del mini peamer, li frullo, stendo la carne sulla carta forno e formato un rettangolo spalmo la crema di friarielli lasciando un po' di spazio sui bordi a questo punto metto la scamorza, arrotolo, formo una rete incrociando il bacon, metto il polpettone sopra e lo arrotolo poi metto in forno statico già caldo per 40 minuti a 200 gradi ed eccolo qui, che goduria, uno spettacolo buon appetito